Beh, è finita bene, no? Perché tu racconti sempre delle storie di un deprimente. Ma no, è vero. Si sono messi insieme, insomma, ci è riuscito lui, ci potrò riuscire anch'io, sì o no? Sì, se ti impegni. Signori, sono 75 euro. 75 euro? Eh sì, ho fatto il percorso più lungo per non interrompere la storia del signore. È finita, mi pare, no? Discorso. Oggi tu le ragazze, paga tu che già sei in debito. Ma debito per cosa? 75 euro per non interrompere la storia del signore. Vedeteci. E adesso no, sarebbe loro, no? Sì. Buonasera. Piacere, Eva. Sì, Sandro, io sto... Ciao. Piacere, Sandro. Piacere, Eva. Filippo. Però. Buonasera, voi siete i signori? E Sandro e Sandro. Prego. Divertente. Divertente. Divertente.